Terra Mara, anticipazioni dal 6 al 9 novembre, dove vedremo la luna di miele di Demir e Zuleyya e il dolore di alcune persone che gli sono accanto. Sevda si reca al villaggio degli operai con Ghaffur e qui vede un uomo che richiede a una donna la restituzione di soldi che ha prestato. Sevda si avvicina chiedendo cosa stia succedendo. L'uomo non la considera, allora Sevda gli dice di vergognarsi ad urlare ad una povera ragazza ed ordina a Ghaffur di pagare il debito. Poi, rivolgendosi all'uomo, gli dice che se lo rivede prestare soldi lo farà cacciare da Cucurova e intanto lo caccia dal villaggio. Nel frattempo Sanye è sulla tomba di un car e le dice che la donna, che per anni l'ha fatta piangere, ora l'ha sostituita e si è sistemata nella sua camera. Le dice che non la chiamerà mai, signora, però riconosce che è una donna misericordiosa. Quindi le chiede perdono perché ha lasciato che la sostituisse, ma la vita deve andare avanti in qualche modo. Fikret raggiunge Musgan in ospedale e lei, arrabbiata e delusa, gli dice che non vuole vederlo. Fikret le chiede di perdonarlo e di ascoltarlo e che non se ne andrà fino a quando non lo perdonerà. Lei gli ripete di andarsene e che non vuole ascoltarlo. Sentendo le loro lù urla, arriva Batiar e Musgan gli chiede di portare via suo cugino e lui ci riesce a fatica. Umit, che ha assistito alla scena, si avvicina a Musgan e la abbraccia. Fekeli ha portato Lucia in azienda e la presenta a Cetin dicendole che per lui è come un figlio e lei lo saluta con la sua solita cordialità. In quel momento arriva Fikret che subito saluta la zia. Fekeli gli chiede se va tutto bene e lui risponde di sì. Poi Lucia gli chiede di portarla nella migliore pasticceria di Cucurova. Più tardi Fikret ha portato la zia sulla riva del lago e lei gli chiede se sa perché è andata lì e lui annuisce. Lei gli chiede perché si comporta male e lui le risponde che ha sofferto insieme alla madre da quando Musa li cacciò di casa e Adnan non lo riconobbe come suo figlio. Ha trascorso 35 anni di sofferenza per poter vendicare il dolore che Adnan ha inferto a sua madre. Lucia gli dice che Adnan è morto ucciso da Fekeli ma Fikret asserisce che a pagare sarà Demir Yaman. Lei gli risponde che Demir non ha colpe ma Fikret le ribatte che solo vendicandosi si calmerà perché non sopporta che Adnan sia riconosciuto come un uomo onesto. Poi le racconta che quando era andato con la madre alla villa di Adnan aveva visto Demir con le scarpe nuove che veniva coccolato da tutti mentre le sue erano rovinate nonostante fosse anche lui figlio di Adnan. Ora vuole che Demir ammetta che il padre era un uomo senza onore. Allora Lucia lo abbraccia e Fikret scoppia a piangere. Intanto Demir e Zuleya sono fuori a cena e Demir ammette che non le ha mai chiesto di sposarlo ma glielo ha imposto, se ne vergogna e le chiede scusa. Le racconta che si è innamorato di lei dalla prima volta che l'ha vista ed ora dai suoi occhi capisce che anche lei lo ama. Poi apre un astuccio con dentro un anello e le chiede se vuole sposarlo. Lei con un gran sorriso di felicità risponde che lo sposerà perché desidera vivere con lui. Demir le mette al dito l'anello e le dice che il loro matrimonio ricomincia da lì. A casa di Fekeli è ora di cena e Lucia apparecchia le cose che lei stessa ha preparato. Fekeli le dice che deve riposarsi ma lei ribatte che le piace preparare la cena per le persone che ama. In quel momento le raggiunge Mushgan. Fikret la guarda e le chiede dove fosse. Lei risponde in ospedale e Fekeli la loda per la sua dedizione agli ammalati. A Villa Yaman quando Sanye entra in cucina trova Gaffur che si sta buffando di cibo e lei glielo toglie dal piatto dicendo che non ha diritto di mangiare in quella cucina. Gli dice che non lo perdona e lo caccia da lì. Quando lui esce chiaramente si lamenta di Sanye poi si introduce nella villetta di Ilmas e si mette a dormire lì. Intanto Demir e Zuleya stanno ballando e lui le dice che è così felice che vorrebbe che quel momento non finisse. Zuleya gli risponde che anche lei è molto felice. Demir le dice che non avrebbe mai pensato che succedesse perché non sperava che l'avrebbe mai amato. Zuleya gli risponde che i suoi sentimenti sono cambiati dopo che lui le ha mostrato il suo grande cuore. Demir le chiede scusa per il dolore che le ha causato e se potesse tornare indietro si innamorerebbe ancora di lei ma non la farebbe soffrire. Zuleya gli dice che lo ha perdonato altrimenti non sarebbe tra le sue braccia. Quindi Demir accompagna Zuleya nella camera dell'hotel, la prende in braccio per varcare la soglia come se fossero appena sposati. Il pavimento della camera è costellato di petali di rose rosse e luci soffuse. Demir la adagia sul letto e la abbraccia dicendole che sono una coppia di innamorati e novelli sposi. Poi le dice che gli sembra di essere nel mezzo di un sogno e Zuleya gli risponde che il loro sogno è appena iniziato. Intanto Fekeli è in salone con Fikret e Mushgan e ha tra le braccia Kerem Ali e gli sta dicendo che Fikret gli insegnerà tante cose. Fikret sorridendo asserisce che come lui crescerà fanno tante cose insieme. Quindi si alza per prenderlo in braccio ma subito Mushgan interviene dicendo che deve portarlo a dormire. Fikret le chiede di farglielo tenere un minuto ma lei si rifiuta. Poco dopo Fekeli resta solo e lo raggiunge Lucia che lo vede triste e lui le dice che i ricordi e i pensieri lo rintristiscono. Allora lei gli racconta che quel giorno ha parlato con Fikret ma non ha funzionato perché lui vuole solo vendicarsi pensando che colpendo Demir starà meglio. Fikret le dice che Fikret la ama come una madre ed ha bisogno del suo amore e dei suoi consigli e le chiede di restare lì con lui perché insieme possono aiutarlo. Lei gli risponde che resterà. Demir e Zuleya sono abbracciati sul letto. Lei gli racconta un episodio di quando era di Istanbul e guadagnava pochi soldi e doveva fare tante rinunce. Demir le dice che la capisce perché quando era studente a Berlino una volta aveva preso dei voti bassi e il padre lo aveva punito non mandandogli i soldi per due mesi e si era dovuto arrangiare. Lei sorridendo gli risponde che essendo lui il figlio di Adnan Yaman la situazione era diversa quindi lo coccola e scherzano insieme. A casa Fekeli quando tutti sono a dormire Fikret va in camera di Mushgan e le dice che devono parlare. Lei gli risponde di no ma lui le ribatte che deve ascoltarlo. Alla scena ha assistito non vista Lucie che ne rimane molto colpita e non capisce cosa Fikret stia facendo. Fikret dice a Mushgan che è stato ingiusto con lei ma Mushgan gli ribatte che l'ha ferita e sconvolta perché si fidava di lui. Gli dice che non lo capisce e ora non vuole capire più e d'altronde era quello che lui voleva quando l'ha allontanata. Ora l'ha fatto perché lui distrugge tutto quello che lo circonda e poi scappa. Fikret risponde di essere follemente innamorato di lei e di amarla con tutto il cuore. Mushgan però gli dice che il suo amore è distruttivo e non lo vuole. Fikret le risponde che è ferito e pieno di rabbia e vorrebbe che lei lo guarisse con il suo amore ma non in quel momento. Tuttavia se lei lo amerà così come è non la tradirà mai e l'amerà fino alla morte e di pensarci. Mushgan rimasta sola inizia a piangere ma anche Fikret piange seduto sulle scale e ripensa ai bei momenti passati insieme. Contemporaneamente mentre Demir e Zuleya sono felici di essere insieme Umit è triste e ripensa i suoi momenti con Demir. Il mattino seguente quando Zuleya e Demir si svegliano sono pieni di gioia per essere insieme e Demir le dice che quella è la loro vera luna di miele. A Villa Yaman Sevda è con Sharmine e le sta raccontando che Demir e Zuleya sono in luna di miele e che meritano di essere felici. Sharmine augurando loro la felicità le dice che Demir è un uomo molto romantico. Zuleya e Demir passeggiano sulla riva del mare tenendosi per mano e Demir le dice che se vuole possono andare a Venezia ma Zuleya gli risponde che ci andranno quando i bambini saranno cresciuti. Demir le risponde che va bene perché a lui basta vedere l'amore nei suoi occhi. A Cukurova Fikret conduce la zia al circolo dove c'è già Sharmine con le sue amiche alle quali annuncia che Demir e Zuleya sono tornati insieme, che lui le ha comprato un anello di diamanti e che ora sono in luna di miele in un posto bellissimo. Naturalmente Fikret seduto vicino ha ascoltato tutto e si infastidisce. Poco dopo Sharmine va a salutarlo e dà il benvenuto a Lucie dicendo che ha sentito parlare del suo arrivo. Fekeli commenta che lei sa sempre tutto per prima ma Sharmine gli ribatte che a Cukurova ci sono due famiglie famose, gli Yaman e i Fekeli per cui fanno notizia. Fikret allora se ne va con una scusa e Sharmine invita la zia a rimanere e le presenta alle sue amiche. Fikret inferocito per ciò che ha sentito si reca nel suo ufficio e telefona ad Umit ordinandole di raggiungerlo. Poco dopo Umit arriva da lui e le chiede dove si trova Demir. Lei gli risponde che non lo sa, allora Fikret le ricorda che lei era andata lì per tenerlo d'occhio e separarlo dalla moglie e dai figli, invece lui e Zuleya sono andati in luna di miele. Fikret la vede improvvisamente triste e le chiede se si è innamorata di Demir. Lei gli ribatte di no ma lui capisce che non è così e le urla che le aveva detto tante volte di non farlo. Poi le chiede se è stata lei ad avvisarlo delle bombe sotto i camion e l'aggredisce verbalmente ma lei non ne sa nulla e gli urla di trovare invece il colpevole. Fikret allora le risponde che per il momento le crede ma la ammonisce di non innamorarsi di Demir perché l'amore la rende stupida e può commettere degli errori e se questo succederà lui la rovinerà. È sera quando Umit, appostata vicino alla villa, vede Demir e Zuleya tornare dal loro viaggio e abbracciare i loro bambini. Umit dice a se stessa che non rinuncerà a lui e non si arrenderà facilmente. Demir e Zuleya felici di essere tornati a casa dai bambini dicono a Sevda che ne hanno sentito tanto la mancanza. In quel momento Demir riceve una telefonata da Erkan che gli dice che lo aspettano a cena perché con loro c'è Dursun, il proprietario del terreno vicino al loro magazzino che lui voleva comprare. Zuleya gli dice che è un affare importante ed è bene che ci vada e che chiuda l'affare. Demir li raggiunge al ristorante e subito iniziano a parlare di affari ma un uomo da un tavolo vicino comincia ad infastidirlo insistentemente e a fare insinuazioni sul suo rapporto con Sevda. Demir fuori di sé gli si butta addosso e inizia a picchiarlo. Intanto alla villa Zuleya spiega a Sevda che l'acquisto di quel terreno farà risparmiare molti soldi di spedizione. In quel momento torna Demir che ha una ferita a una mano e subito gli chiedono cosa sia successo e lui racconta di aver litigato con un ubriaco che lo ha provocato. Il giorno seguente Zuleya chiede a Demir il vero motivo per cui ha lottato e di non nasconderle la verità. Allora Demir le riferisce che quell'uomo, il vetraio Ramazan, aveva insinuato che Sevda andasse nella sua camera come faceva con il padre. Quindi le dice di non arrabbiarsi e di non riferire nulla a Sevda. Terminano così queste anticipazioni, Zuleya sta per rivelarci nuove sorprese, così come Umit che sicuramente non si arrenderà. Io sono Stefania, come sempre vi racconto le vicende di Terra Amara, se non lo avete già fatto iscrivetevi al canale. Vi mando un abbraccio e ci sentiamo al prossimo video.